Al carcere di Pesaro, definire la situazione d'emergenza è dire poco. Parole della senatrice di Sinistra Italiana e Verdi, Laria Cucchi, che ieri è stata accolta dagli agenti della Polizia Penitenziaria di Villa Fastigi, che da mesi protestano contro la gestione della prigione e la mancanza di tutele, come confermato dall'ennesima aggressione di un detenuto che la sera del 31 dicembre ha spaccato il naso e slogato una mascella ad un agente. Una visita sorpresa a quella della vicepresidente della Commissione Giustizia, che per anni si batte per inseguire la verità sulla morte del fratello Stefano dietro le sbarre. Laria Cucchi ha riferito che i mesi di protesta del penitenziario pesarese sono rimasti inascoltati perché in questa struttura si va da perdite d'acqua dagli impianti idraulici non riparate da anni a pazienti psichiatrici parcheggiati come fossero pacchi accatastati e privati del diritto alla salute e alla dignità. Da tossicodipendenti abbandonati a se stessi a strutture ricreative e fatiscenti. Tutto questo di fronte a un personale che cerca disperatamente di fare quel che può. Quella degli agenti ha detto la Cucchi è una umanità inascoltata e vilipesa. Detenuti e personale penitenziario sarebbero schierati gli uni contro gli altri e invece non è così. E non si parla solo di carenza di fondi, ma addirittura di mancata utilizzazione di quelli che sarebbero disponibili. La Cucchi ieri non ha incontrato la direttrice del carcere in quanto in ferie, ma ha intenzione di approfondire l'argomento per portarlo all'attenzione del Parlamento. Parallelamente i sindacati del penitenziario sono ugualmente intenzionati a portare la questione al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Grazie. Grazie.